L'acqua e sapone di Mister Del Gallo arriva al Tomolini di Martinsicuro dopo un trittico di vittorie bellissime in filotto superate Nereto, Chieti e Spoltore ma i punti salvezza devono ancora arrivare primo minuto occasionissimo per D'Agostino che sciupa da ottima posizione al quinto, ottima opportunità per il Martinsicuro, atterrato Ciuti, Gianbietro fischia il penalty Palena si distende sulla sua sinistra e va a deviare in angolo la conclusione dello stesso Ciuti si rimane sullo 0-0, Marrone ci abbatta al quarto d'ora ma è Zipiglia a sbloccare la gara al minuto 21 con un gran bolide che prima va a baciare il palo e poi si insacca alle spalle di Cannella Acquastapone in vantaggio, bene il Martinsicuro di Serafino ad azione di calcio d'angolo, va vicino al pari Acquastapone va vicino al raddoppio con questo sinistro nell'altro centrocampista centrale Majorani poi è Petito il bomber che riconquista una palla, fa partire un bel destro, Cannella attento finisce il primo tempo, 0-1, inizio di presa al terzo minuto, gran cross di Marrone per Petito in bellissimo stile, sigla la rete dello 0-2 il Martinsicuro però non molla, oggi gioca una partita gagliarda, Ciuti non trova la via del gol da buona posizione la squadra di Del Gallo oggi è particolarmente cinica, D'Agostino lavora un ottimo pallone per Marrone al quarto d'ora si è sul 3-0 la portatela a questa pona invece sembra stregata, prima colpo di testa leggermente al lato di Palladini poi colpo di testa ancora di Giorgi, palla che va a sbattere sulla traversa, linea rivediamo dalle immagini, non si capisce bene se oltrepassa la linea di porta, la sfera comunque si rimane sullo 0-3, altra occasionissima sulla testa questa volta di Dolegoschi ben cercato da Farinelli, dopo una bella cavalcata anche Pizzi ha la palla del 1-3 ma dicevamo prima, oggi l'acqua e sapone è spietato, assist del neoentrato Trento per Petito doppietta personale per il bomber pescarese merita però la rete del 1-4, anche il neoentrato in casa Martinsicuro Levakovic trova un super palena sulla sua strada, in evidenza anche la giocata di Evangelista chiuso in angolo da di Serafino, il gol del meritatissimo 1-4, arriva al novantesimo con un'azione personale di Farinelli, finisce così 1-4 per l'acqua e sapone tre punti pesantissimi in chiave salvezza, bene Martinsicuro nonostante la larga sconfitta Pizzera del Gallo, non è ancora arrivata la matematica per la salvezza ma il finale di campionato dei suoi ragazzi è clamoroso record di punti anche quest'anno, avete superato quello dello scorso anno oggi partita non facilissima perché Martinsicuro si è giocata a gran primo tempo ma voi state inanellando un risultato dietro l'alto di quelli importantissimi Sì, abbiamo aumentato un pochettino il passo nelle ultime partite ma quello che mi preme di dire è che questi ragazzi stanno facendo un lavoro importante una partita che sulla carta poteva sembrare semplice ma semplice non lo è stata anzi se il Martinsicuro a seccaveri con l'inizio potrebbe essere ancora più complicata siamo stati bravi poi a capitalizzare le occasioni che ci sono capitate e niente, un pochettino il finale abbiamo mollato però va bene così, l'importante era conquistare questi tre punti Andrea Di Felice, capitano di questo Martinsicuro indossi questa fascia di capitano ogni domenica ti vediamo dare l'anima il 110% è un esempio bellissimo per i tanti giovani che avete in squadra Io ringrazio, ringrazio mille dei complimenti io cerco di dare il massimo per trascinare la squadra dietro di me sono dei ragazzi bravi, giovani magari hanno bisogno di un esempio che li trascina un pochettino e grazie ancora dei complimenti per me questa maglia vale tantissimo e porterò l'onero fino alla fine